Lui? Ah, lui, eh? Eh, dite, mamma, per favore, anche io a Nintendo, eh? Ieri sera poi era fine, hanno litigato con Leon Ah, sì, eh? Sì, perché hanno giocato alla Wii, a Nintendo E lui non è abituato Poi piano piano con il tempo si vede a cominciare a capire il gioco E ha vinto E ha vinto E Leon si è arrabbiato Ha detto così va bene No, basta, basta Eh, no, no Mi stiamo mettendo i mostri senza che ti butti E manca questo Non lo toccare Ma è questo? Vieni, vieni Che fa Gabriele? Eh? Gioca E gioca? Ti fa ridere? Eh? Eh, Gabriele quando è concentrato Ti ha aspettato tutto il giorno, ora hai servizio a Nintendo Che c'è, amore? Hai scomparsa la mano? Ti ha scomparsa la mano? Ti ha scomparsa la mano? Ti fa ridere? Eh? use mole Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.